Buongiorno a tutti e ben ritrovati, oggi andiamo a vedere un altro esercizio con il BJT con doppio carico come invertitore di fase senza le due resistenze di carico esterne RUC ed RUE, quindi senza le due come abbiamo visto ieri in questo caso qua le resistenze che devono essere uguali ovviamente devono essere Rc ed RUE che sono i soli carichi rimasti quindi diciamo che questa condizione mi diventa poi in questo modo qua Rc uguale ad RUE e in tal modo andiamo a verificare che i due guadagni di tensione sono uguali in modulo e sfasati di 180 gradi Allora, prima di tutto, i dati che vedete, dobbiamo andare a vedere se i parametri HRE ed HOE sono o no trascurabili sempre le due relazioni che dobbiamo verificare siano minori di 0,1 e quindi andiamo a sostituire Allora, ovviamente qua non sarà più RLC ma sarà Rc ed RUE io cancello solo la L che ho ripreso le formule dall'esercizio di ieri, quindi così andiamo a sostituire, quindi Rc più RUE sono messi uguali, quindi 2K e 2K e 4K, quindi 4K per 1 fratto 30K questa mi viene 0,13 e quindi in questo caso qua il parametro HOE non è trascurabile poi andiamo a vedere invece per HRE, allora HRE è 2 per 10 alla meno 4 per, qua abbiamo Rc più RUE, quindi 4K fratto 2K e quindi 2 e quindi qua abbiamo 2 e quindi viene 4 per 10 alla meno 4 e quindi HRE come sempre capita è trascurabile a questo punto andiamo a vedere il circuito dinamico, quindi quello a parametri H, io già qua l'ho disegnato in questo caso qua abbiamo l'impedenza 1 su HOE in parallelo al generatore dipendente di corrente qua andiamo a mettere la ROC, quindi abbiamo una resistenza di ingresso, quella direttamente tra base e massa del BJT, poi quella che comprende RB e le due resistenze di uscita, seconda dell'uscita sull'emettitore o l'uscita sul collettore. Una volta verificate queste due relazioni andiamo a calcolare per prima cosa il guadagno di corrente all'uscita del collettore e in questo caso abbiamo linea di frazione non è solo HFE ma abbiamo la parte del denominatore che la fa leggermente abbassare HOE che moltiplica RC più RE. Quindi questa andando a sostituire mi viene circa 115 la HI, la AI sappiamo che è uguale a meno AIC e quindi sarà meno 115, poi abbiamo la RI quindi qua e questa è HFE più, andando a sfruttare il guadagno di corrente già calcolato AIC dove HI abbiamo 2K più RE che è sempre 2K per 115 e questa viene 232 KOhm, come sempre è molto grande quella all'ingresso del BJT. Se poi andiamo a fare RI primo che è RI parallelo RB questa poi si abbassa considerevolmente viene 232 K parallelo 4K e viene circa 4K quindi 3,9 KOhm. dopodiché andiamo a fare i guadagni di tensione quindi andiamo a fare la VC che è VC fratto VB e anche di questo andiamo a sfruttare il guadagno di corrente già calcolato RC fratto RI quindi meno 115 per 2K fratto 232 K e questo mi viene meno 0,99. Andiamo a controllare che effettivamente AWE sia uguale modulo ma cambiata di segno, la formula è 1 1 meno HI fratto RI, 1 meno 2K fratto 232 K 1 meno 2K fratto 232 K quindi abbiamo proprio verificato che questa e questa e questa siano uguali in modulo ma con segno opposto ci rimane da calcolare le due resistenze di uscita ROC ed ROE allora per calcolare per ROC vediamo se è verificata la condizione per cui possiamo utilizzare una formula più approssimata che è HOE per RE deve essere minore di 0,1 quindi abbiamo 1 fratto 30K per 2K quindi 2 diviso 30 viene 0 uguale 0,067 se vogliamo e quindi ok possiamo utilizzare la formula semplificata ROC è uguale a linea di frazione 1 su HOE quindi c'è una linea di frazione qua e poi un'altra qua così così quindi sarà 1 HOE poi abbiamo parentesi 1 più qua al numeratore HFE RE fratto RE più HIE più RS' così direi che RS' l'avevo già calcolata no non l'avevo ancora calcolata e neanche RB allora aspettate che mettiamo un RB qua che è R1 parallelo R2 e quindi è 4K e poi RS' che è RS parallelo RB e quindi 800 parallelo a 4K vediamo se l'ho già fatto da qualche parte 667 667 aspettate che lo ricontrollo si deve essere abbastanza attendibile abbiate pazienza se ogni tanto sbaglio qualche conto ma capita allora ok a questo punto qui andiamo a sostituire quindi abbiamo 1 su HOE che è 30K per aperta 1 più 130 per 2K vabbè questa la scriviamo ancora facciamo ancora un passaggio così quindi viene 130 per 2K fratto 2K più 2K più e 167 quindi qua di tutto poi viene circa 1,7 mega ohm quindi vedete che sono sempre molto molto grandi poi ovviamente con il discorso del se uno volesse poi andare a vedere il ovviamente se ci fosse la resistenza R o C e quindi andare a mettere il parallelo di RC ovviamente si abbassa parecchio però diciamo all'uscita del del BJT la resistenza è sempre molto alta e infatti molte volte si si tende all'infinito quindi si può immaginare come se fosse infinita poi invece abbiamo R o E questa sappiamo essere molto bassa questa qui ha linea di frazione anche questa possiamo usare la formula approssimata quindi HIE più RS' fratto HFE e questo sostituendo viene 2K più 667 quindi 2667 diviso 130 che viene 20,5 ohm bene vediamo vediamo facciamo un focus ancora su questo sul fatto dove sta la problematica la problematica sta qua che ha diciamo un'uscita a una resistenza molto elevata e un'uscita a una resistenza molto bassa per dove invece le due uscite i due segnali hanno praticamente lo stesso valore semplicemente sfasate di 180 gradi per quello che si chiama invertitore di fase io quello che vorrei ovviamente è quello di avere anche le due resistenze di uscita uguali in modo da avere veramente due condizioni uguali in questo caso qua e all'uscita del collettore qui prima di arrivare diciamo al discorso del carico si va a mettere un inseguitore di emettitore che mi fa ad adattamento di carico vediamo in un prossimo esercizio un esempio di questo tipo bene spero di essere stata chiara fatemelo sapere nei commenti se avete piacere vi ricordo l'iscrizione al canale cliccando appunto sul tasto iscriviti e attivare la campanellina per le notifiche ci vediamo domani